Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Parliamo della sanità perché passato il picco influenzale resta comunque alto il numero di accessi al pronto soccorso. Ne abbiamo parlato con il direttore Zanobetti. Siamo ormai a fine gennaio, non ci sono più i numeri del mese di dicembre rispetto agli accessi al pronto soccorso di Arezzo, ma c'è comunque ancora un'affluenza importante dovuta ai tanti casi di influenza stagionale. Molte persone che si presentano al pronto soccorso con patologie respiratorie e che necessitano di ricovero. Eh sì, diciamo il picco degli afflussi è stato durante le festività con dei numeri abbastanza importanti sia per quanto riguarda la patologia respiratoria influenzale, sia per il fatto che durante le festività purtroppo i cittadini non trovano nel territorio una grande risposta e quindi il pronto soccorso è sempre pronto a dargliela. Ma diciamo come afflusso in questi ultimi giorni i numeri sono tornati a essere quelli che erano, ma l'influenza comunque e diciamo le conseguenze dell'influenza, quindi tutta la patologia respiratoria, la fanno da padrona. Avete ricoverato percentuali maggiori rispetto al normale, anche di persone di giovanità? Esatto, il problema è che noi riusciamo a fare un filtro che mediamente si attesta durante l'arco dell'anno sul 10-11% soltanto di pazienti ricoverati, mentre ora in questi ultimi 20 giorni abbiamo dovuto ricoverare circa il 13-14% dei pazienti che arrivano che poi dopo moltiplicati per il numero di accessi cominciano a diventare tipo 2-4 ricoveri in più al giorno e ovviamente di pazienti che poi non è che il giorno dopo tornano a casa, hanno bisogno di stare nei reparti, e quindi c'è un sovraffollamento delle reparti che poi provoca questa situazione abbastanza complessa. E adesso occupiamoci di economia. Arezzo è tra le 70 città italiane in cui l'inflazione sembra galoppare di più, nonostante i rincari siano inferiori a quelli registrati nelle altre città della Toscana. Il servizio. Siamo quelli messi meglio, si fa per dire, in Toscana, ma siamo comunque tra le 70 città italiane in cui l'inflazione picchia più duro. Lo dicono i dati relativi all'anno 2023 elaborati dal Kodakons. Per via del caro vita ad Arezzo ogni famiglia ha sborsato oltre 1.200 euro in più all'anno. Milano si conferma nel 2023 la regina dell'inflazione, ossia la città dove l'aumento di prezzi e tariffe, a parità di consumi, ha determinato il più forte impatto sulla spesa delle famiglie, pari a 1.657 euro in più all'anno. Sul fronte opposto, la città dove il caro prezzi ha pesato di meno è Potenza. La città dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del 6,9%, ma c'è anche Grosseto con un più 6,8, la prima in Toscana. Segue Siena, Firenze, Pisa, Massacarrara, Pistoia, Livorno e Lucca. Chiude la classifica toscana proprio Arezzo, che ha visto crescere la spesa del 5,6% e dalle tasche degli aretini nel 2023 sono usciti 1.263 euro in più. E continuiamo a parlare di economia. Parliamo di saldi che vanno a rilento anche in provincia di Arezzo, secondo un primo riscontro effettuato da ConfCommercio. I saldi invernali 2024 vanno a rilento anche in provincia di Arezzo. Secondo un primo riscontro condotto da ConfCommercio, sul territorio dopo i primi 10 giorni di shopping in saldo, il 55% dei negozi aretini di abbigliamento e calzature ha rilevato un calo a fronte di un 35% che ha riscontrato un trend stabile e un 10% che ha registrato invece un leggero incremento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2023, un dato che conferma tra l'altro la tendenza nazionale. Pochi soldi e troppo caldo finora, ma i saldi sono appena all'inizio, spiega il presidente di Federmoda ConfCommercio Toscana, Paolo Mantovani. L'arrivo del freddo ancora più intenso nei prossimi giorni potrebbe imprimere un'accelerata alle vendite di capi più pesanti. Se invece arriva la pioggia può essere un deterrente perché non invoglia ad uscire per fare shopping, lo si è visto nel primo weekend di saldi rovinato dal meteo. Nella città di Arezzo più della metà dei negozi ha riscontrato una frenata iniziale, come confermato da numerosi negozi di abbigliamento. Dalla categoria infine si alza la richiesta sempre più pressante di una regolamentazione sugli sconti selvaggi. Le istituzioni devono sostenere la presenza di negozi di moda all'interno delle città e la via della ripresa può passare lungo le tre direttrici che Federmoda Italia ha indicato al tavolo nazionale della moda, conclude Mantovani. Un'ivage volata sui prodotti di moda, in particolare quelli made in Italy, un bonus moda per l'acquisto di prodotti ecosostenibili e un canone di locazione commerciale concordato tra locatori e conduttori per ridurre il peso degli affitti. E cambiamo decisamente argomento. Il comitato aretino Stop Puzzo torna sul problema delle emissioni od origine moleste. Era stato dichiarato in più occasioni che il problema era da imputare ai rifiuti organici provenienti da Grosseto, trattati dall'impianto AISA di San Zeno. Ed ora, dopo tutto il tempo trascorso, il comune di Arezzo ha disposto l'effettuazione di una campagna olfattometrica perché non sarebbe certa dell'origine del fenomeno. Lo dice Roberto Barone, presidente del comitato. Per noi del comitato depuratore Casolino, spiega ancora Barone, è un'esperienza già vissuta negativamente visto che il precedente studio giudicò accettabile il livello di odori a dispetto della realtà vissuta e dimostrata dalle continue segnalazioni provenienti dalle varie località, da San Leo a Pratantico a Quarata, Ortali, Palazzetti, Montione, Ortali, Butteri e Quarrata. Oggi il comitato chiede di consentire ai suoi rappresentanti di presenziare ai campionamenti e che l'ARPAT sia costantemente presente durante tutta la campagna olfattometrica e che al termine della stessa venga reso disponibile al pubblico il documento dello studio effettuato. E proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti ad Arezzo in corso da parte di Sei Toscana in accordo con l'amministrazione comunale di Arezzo l'installazione di nuovi cassonetti stradali per la raccolta del monovetro e delle zone dove ad oggi sono ancora presenti contenitori che accolgono il vetro assieme a plastica e barattolame. Le operazioni che copriranno progressivamente tutto il territorio comunale riguarderanno inizialmente le zone di via Anconetana, via Trento Trieste Tribunale via Francesco Redi, Stagiano e La Pace Le nuove postazioni di raccolta avranno cinque cassonetti di diverso colore a seconda del materiale da conferire cassonetto marrone per la raccolta dell'organico blu per carta e cartone giallo per il multimateriale imballaggio in plastica, alluminio e tetrapack grigio per il residuo non riciclabile e il cassonetto di colore verde per il vetro E adesso parliamo di scuola parliamo del liceo Made in Italy che non decolla in Toscana solo quattro su una trentina di istituti regionali con indirizzo economico e sociale attiveranno dal prossimo anno questo percorso due di questi però sono in provincia di Arezzo vediamo Nessuno se l'è sentita di rinunciare di sacrificare le classi dell'economico sociale per un liceo che non è stato presentato ancora è partito laddove ci sono delle scuole che hanno più sezioni Da un lato le tempistiche ristrette dall'altro i programmi non perfettamente definiti soprattutto per il triennio così in Toscana non decolla il liceo del Made in Italy la nuova offerta formativa varata dal governo a fine 2023 Deve servire a portare i ragazzi verso il mondo di lavoro in maniera piuttosto concreta quindi creando occasioni proprio di confronto di collaborazione di apprendimento con quelle che sono le realtà produttive Solamente quattro su una trentina di istituti regionali con indirizzo economico sociale attiveranno questo percorso dal prossimo settembre Due sono in provincia di Arezzo in città il liceo Colonna in Valdarno il liceo Giovanni da San Giovanni Noi abbiamo aderito semplicemente per non chiudersi alle novità Ciò non toglie che un ragionamento molto oggettivo dica che questo liceo del Made in Italy ancora non è completo perlomeno nella sua proposta formativa Il progetto interessa solamente i licei che hanno già attivo il percorso economico sociale E varia soltanto perché un'ora della seconda lingua straniera è stata sostituita con un'ora di storia dell'arte e quelle che erano le scienze umane sono state sostituite con tre ore di economia Il liceo del Made in Italy a partire dal 23 gennaio dopo il che della regione potrà essere scelto dalle famiglie attraverso la piattaforma unica Lo certo è che se qualora non ci fosse l'oscrizione noi manteneremo le nostre tre sezioni di economico sociale E adesso spostiamoci in Valdichiana oltre 100 studenti degli istituti superiori cortonesi hanno partecipato all'incontro Rinascimento d'amore voluto e organizzato dall'amministrazione comunale nella Sala del Consiglio Protagonista Stefano Pieri lo psicologo di strada volto noto di Raiuno ospite delle trasmissioni Una mattina in famiglia Generazione Z e i maturandi che nei mesi scorsi a Cortona ha realizzato alcuni servizi con gli studenti delle superiori In questa occasione ha realizzato invece un talk sull'educazione e l'emozione tutta per loro E torna il Carnevale dell'Orciolaia appuntamento nelle domeniche del 28 gennaio 4 e 11 febbraio 2024 a partire dalle ore 15 confermata la location all'interno del Parco Ducci in via Montefalco ad Arezzo Dopo il successo avuto nelle ultime edizioni continua il nostro nuovo format di intrattenimento con spettacoli, musica e trenini per immergersi in un percorso pieno di animazioni e divertimento con giochi e musica collaboratori per grandi e piccini sottolineano gli organizzatori come sempre trenini, attrazioni, maschera a tema Disney e la musica trio Beppe, Marco e Robi E adesso occupiamoci di sport parliamo dell'Arezzo Calcio che presenta i due nuovi acquisti Catanese e Donati Vediamo I due ragazzi si devono sentire motivatissimi perché la sua età le ha volute a tutti i costi perché insomma sono state due operazioni complicate se penso che Francesco lo volevano una decina del club ma siamo riusciti noi a prenderlo e Giovanni aveva richieste anche da squadre che erano magari come blasone in questo momento più importanti o con possibilità maggiori di fare campionati di prestigio hanno creduto nel nostro progetto perché sapete benissimo che la volontà del presidente è quella di alzare l'asticella e di diventare nel medio periodo una squadra da primissimi Io sono arrivato un paio di giorni ho visto un gruppo fatto di ragazzi professionali seri e per bene speriamo spero penso anche Francia di adattarci al più presto agli allenamenti a quello che chiede il mister e pure a campo ovviamente cambiamo tutto dobbiamo fare la svelta per adattarci a tutto l'ambiente Sì sono d'accordo appena sono arrivato ci hanno subito accolto bene compagni staff direttore tutti quindi grazie per averci accolto in questo modo e con gli allenamenti stiamo prendendo il ritmo è un bel ritmo in allenamento a cui bisogna adattarsi subito per entrare per bene nei meccanismi creare intesa con i compagni e dimostrare poi a domenica io ho fatto più o meno tutti i ruoli del centrocampo quindi cerco non è un problema sia centrocampista a due tre quarti a tre insomma non c'è un problema per questo insomma spero di mostrare in campo di poter fare tutti i ruoli del centrocampo mi devo adattare comunque da ho giocato poco veramente poco in questi sei mesi quindi devo lavorare ancora più degli altri per entrare subito con il ritmo che vedo che gli altri ragazzi hanno che fanno insomma allenamenti non vanno in pratica sono veramente preparati io farò di tutto in questi primi allenamenti per dare tutto e adattarmi più velocemente possibile perché c'è bisogno di spingere fin da subito per arrivare al nostro obiettivo e il calciatore amaranto Andrea Boggesi passa alla Pro Sesto formazione che milita nel girone A di serie C il trasferimento avviene a titolo definitivo ma l'Arezzo si è riservato la possibilità di riportarlo in amaranto già dalla prossima stagione e adesso parliamo di basket perché la scuola basket Arezzo presenta le novità del trofeo Guido Guidelli vediamo al via il countdown verso la 39esima edizione del torneo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli l'appuntamento è fissato da giovedì 25 a sabato 27 aprile quando la scuola basket Arezzo tornerà ad ospitare una delle manifestazioni tra le più longeve del panorama tricolore che diffusa tra sette palazzetti tra città e provincia riunirà centinaia di giovani incestisti da ogni zona d'Italia grande novità di quest'anno sarà rappresentata dall'introduzione della pallacanestro femminile che arriverà il suo esordio assoluto al torneo con le categorie under 13 ed under 14 dove militano le ragazze nate tra il 2010 e il 2013 andando ad affiancharsi alle tradizionali categorie maschili dell'under 13 e under 14 che identificano il guido Guidelli da quasi 4 decenni la scelta della SBA è stata quella dunque di sostenere la crescita del proprio settore femminile la società retina fa attualmente affidamento su circa 60 bambine e ragazze divise nelle diverse categorie dal minibasket a Nova Verta all'under 17 e trova la propria squadra di punta nell'under 13 che il primo anno nel campionato regionale toscano occupa il terzo posto con 5 vittorie in 8 partite l'evento sarà anche un'occasione di incontro amicizie e valorizzazione dei singoli partecipanti e in quest'ottica tra i momenti più attesi rientra la tradizionale serata di gala di venerdì 26 aprile quando al Palace Sportestra Mario D'Agata verranno premiati e applauditi tutti gli atleti e le atlete scese in campo e questo era anche il nostro ultimo servizio io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti